A smile from a veil, do you think you can tell? Psicologia positiva è arte della resilienza nell'apprendimento di tecniche e approcci che migliorino il benessere della persona perché potenzialità e risorse sono in ognuno di noi. Si può così sintetizzare il primo workshop sul tema del benessere della persona promosso dall'associazione L'Urlo Ollus in collaborazione con la Proloquo di Coppito e TV1. Il pubblico nella sala gremita della biblioteca del casale di Morata Gigotti ha partecipato con entusiasmante attenzione e coinvolgimento alle due ore di psicologia del benessere e positiva tenute sapientemente da Massimo Monti, counselor e dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e Domenica Canna, psicologa, psicoterapeuta. Aperto i lavori Serena Congio, giovane presidentessa dell'Urlo. L'edomania era proprio quella possibilità dell'incontro con l'altro, con la relazionabilità, con la possibilità di crescere insieme. Quindi è un qualche cosa, è una spinta verso un benessere che va oltre un concetto etonistico, cioè legato al piacere personale, quindi autoreferenziato. È un piacere che si sviluppa proprio nel collegamento e nell'interazione di noi stessi con l'ambiente. In psicologia fa riferimento la resilienza a tutte quelle persone che riescono a fronteggiare i traumi. La resilienza appartiene a qualsiasi individuo, non è una cosa insita o innata, la resilienza si apprende. Essere resilienti non vuol dire, attenzione, non soffrire, non provare rabbia, non provare tristezza. L'individuo resiliente è un individuo che soffre esattamente come tutti gli altri individui, si arrabbia quando le cose non vanno. Tuttavia riesce a mettere i problemi, perché è consapevole di quelle che sono le proprie capacità, è consapevole anche di quelle che sono le proprie potenzialità. Che noi siamo così abituati a guardare al passato, come se fosse effettivamente vitale, ma se ci soffermiamo invece a ragionare, non diciamo, ma al passato, chi ce lo cambia? Il prossimo incontro è fissato al 27 maggio venerdì alle 17.30, aiutare ad aiutarsi risolvere i problemi allenandosi al cambiamento. Il prossimo incontro è un'accommodale.